Allora ragazzi ben ritrovati, un altro lunedì, un altro riassunto settimanale, andiamo a vedere quello che è successo la scorsa settimana, vediamo un po' come è messo il mercato a livello di prezzi, c'è ancora una volta tanta carne al fuoco, voglio cercare di trattare il tutto in modo più sintetico possibile. Allora vediamo questa schermata qui, stavolta inizio con Coin360 gradi, che ci fa vedere, quindi Coin360.io, che ci fa vedere un po' la situazione del market e come siamo messi a livello di mercato che sale o mercato che scende, no? Con questa sorta di quadranti e colori. Vediamo tanto rosso in questo quadrante qui, ma in realtà la situazione non è così grave, come penso tutti sappiate, ieri abbiamo avuto un bello spike in salita, quella che è stata quindi la salita tra sabato, notte e domenica per noi europei, abbiamo avuto questo bello spike a salire, quindi adesso è un pochino in flessione, era un po' fisiologico anche perché qua si sa quando sale così in questo modo, l'abbiamo visto anche qui settimana scorsa. In ogni caso il trend, non voglio poi sbilanciarmi perché lo sapete, è quello che abbiamo visto nell'ultima settimana, nell'ultima decina di giorni a cercare di risalire un pochino quella che è la china e quindi riprendere un po' il prezzo verso i 7000 dollari, parlo sempre di Bitcoin. Quindi riassunto, siamo arrivati ai 275, quasi 280 anche miliardi nella capitalizzazione totale, il Bitcoin ha la sua dominance che si assesta sempre sul 42%, a scendere insomma intorno al 42% e le altre altcoin che seguono, in particolare abbiamo visto Ethereum che quasi toccava di nuovo i 500 dollari. Insomma questo è l'andazzo, diciamo, e la cosa positiva che vedo io, e questa è la nota che voglio aggiungere al di là dei dati, è che secondo me la scadenza del CME ha portato via parecchie commesse, per virgolette, di coloro che appunto hanno puntato in short. E quindi la liquidazione di determinate posizioni ha portato forse una pulizia, siamo tornati in un mercato un pizzico più sano, sempre un pizzico, perché poi la manipolazione, tutto quello che c'è dietro sappiamo che rimane. Però insomma l'ultima ondata, l'ultima scadenza di quelli che erano i futures del CME ha poi portato quindi una risalita, avevamo visto il prezzo che continuava ad abbassarsi, ha toccato i 5800 dollari, adesso nel giro di una settimana ci troviamo quasi un migliaio di dollari in più, parliamo di percentuali molto alte. Non è tanto questo, perché la volatilità la vediamo sempre, è più che altro l'assestarsi su un prezzo che tende pian piano a recuperare un po' senza scalare troppo verso il basso, quindi sembra essersi, il resto è stato un po' anche a livello positivo un po' di tutti quanti, la sensazione che il bitcoin insomma possa farcela su questi prezzi, poi non è detto perché poi alla fine magari vengo smentito stasera stessa, sappiamo come funziona. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie più che altro. Allora voglio riparlare di nuovo di Facebook, perché? Perché abbiamo questo cambiamento di posizione all'interno del team di Facebook dove praticamente il direttore del reparto ingegneristico di Facebook è stato mosso, che era lì da tre anni, è stato mosso su quello che è il team che è stato formato per studiare la blockchain sempre internamente a Facebook, quindi abbiamo già visto come c'era stata la creazione di questo team di Facebook dove appunto David Marcus che era capo della team di Messenger è stato mosso in questo team quindi ricerca e sviluppo, lui che fa anche parte della board di Coinbase, quindi tutto questo discorso. Quindi Facebook è seriamente interessata a studiare un'applicazione e ha detto appunto dell'articolo di CoinTelegraph veramente from scratch, quindi da zero partendo senza avere un'idea di studiare qualcun altro. Insomma studiare una loro soluzione come utilizzare questa nuova tecnologia anche nel contesto Facebook. Sembra una cosa ormai più che concreta, non si sa adesso come e quando svilupperanno veramente qualcosa. Poi c'è sempre un altro movimento, qui si parla di un'acquisizione sempre a livello di membri del team, l'exchange dei due gemelli dei Winklevoss Gemini ha acquisito nel suo team quello che è un esperto nel campo degli stock exchange, quello che è stato il capo, quindi troviamo il chief o information officer nel New York Stock Exchange, appunto Robert Cornish. è stato inserito all'interno del team Gemini, questo perché è importante? Perché sappiamo che Gemini sta cercando di, più volte applicato per fare un ETF presso la SEC americana, quindi per cercare di regolamentare il settore per fare entrare appunto questi capitali un pochino più istituzionali. Quindi se effettivamente l'exchange verrà riconosciuto come exchange regolamentato sappiamo quello che potrebbe portare anche tutto il mercato. Quindi secondo me anche questo è un passo da nominare perché degno di nota, perché prendendo persone di rilievo che già hanno lavorato per tanti anni nel settore regolamentato, insomma si porta esperienza e è un chiaro segno verso dove si vuole andare. Poi abbiamo queste dichiarazioni di Buterin che hanno fatto scalpore perché appunto in un'intervista, lui lo dice col sorriso, però lo dice, dice spero che tutti gli exchange centralizzati bruceranno all'inferno, no? As much as possible, il più possibile all'inferno. Definendo appunto questi sistemi, questi exchange, un problema al momento perché? Perché innanzitutto manipolano e decidono quale monete poi debbano esplodere perché prendiamo, non voglio fare nomi anche perché Buterin non fa nomi, però vi faccio esempi, quando grandi exchange, i più grandi mondiali accettano o non accettano una certa moneta all'interno del loro exchange, di solito lo fanno sotto pagamento di commissioni, quindi come dice Buterin decine o 15 milioni di dollari solo per essere listati su quell'exchange. In quel momento entra la nuova moneta su Binance, entra la nuova moneta su Wobby, entra la nuova moneta su OKX, quella moneta effettivamente prende poi il largo, prende il volo e c'è un grande volume di transazioni su quella moneta lì e quindi poi il mercato e tutta l'economia della moneta tende a salire, però sotto previo pagamento di un determinato exchange ciò è sbagliato, non concettualmente proprio sbagliato, anche perché puntiamo ad essere decentralizzati, a far nascere valore dalle cose che lo hanno veramente, cioè non farlo nascere, ma mostrare il valore intrinseco di determinati progetti al di là se questi hanno poi un budget per pagare un exchange. E quindi quello che dice Buterin è che dobbiamo migliorare l'aspetto della decentralizzazione in tutti i suoi campi, specialmente sotto questo aspetto qui. Poi notizia veramente veramente importante secondo me, cioè nota veramente da citare, io avrei fatto il video solo su questo. Allora, questo è un report ufficiale del Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo si risbilancia di nuovo e tira fuori un report su quelle che sono lo studio a seguito del G20, sul futuro delle, come lo chiamano virtual currencies, sulle currency, sulle monete virtuali, su queste monete digitali, in cui appunto parla di blockchain, appunto parla nello specifico bitcoin, ethereum, nomina anche ripple e diverse soluzioni. Questo mondo che noi chiamiamo cryptovalute o cryptocurrencies, no, nel report è stato appunto chiamato virtual currencies vcs. E nel report definisce proprio erronee alcune definizioni, ad esempio citando quella di Shiller, aveva parlato in un modo sconsiderevole riguardo a bitcoin e al suo futuro, e dice di come invece certe definizioni sono sbagliate. Adesso vi faccio vedere anche quello che è il report vero e proprio, è questo qui. Quindi, proprio report ufficiale del Parlamento Europeo. Virtual Currencies and Central Banks Monetary Policy, Challenges Head. In pratica è uno studio per, fatto proprio luglio 2017, quindi fatto adesso dal Parlamento Europeo, dove vanno in un'analisi profonda, in-depth analysis, su quello che è l'aspetto economico e come queste monete virtuali, o sì appunto monete virtuali, influenzeranno, stanno influenzando e influenzeranno l'economia, in primis europea e poi appunto economia mondiale. Questo studio è tagliato, facendo vedere anche i livelli di crescita, parlando, qui c'è l'introduzione di cosa si parla, il potenziale, insomma, facendo un bello studio, con un overview della struttura del bitcoin, proprio in particolare, vedete nominano bitcoin, ethereum, ripple e altre monete digitali più famose, qui c'è le prime 5 come capitalizzazione, insomma, fa vedere quello che è stato il grafico a livello di capitalizzazione e di prezzo del mercato. Insomma, una bella analisi e come questa andrà a influenzare l'economia. Voglio farvi vedere quello che è il summary, perché altrimenti veramente avremmo potuto fare un video solo su questo. Vi consiglio di leggere questo documento, lo lascerò in descrizione. Andiamo a leggere però insieme quello che è almeno il summary, giusto per darvi un'idea. Allora, summary and conclusions, quindi riassunto e conclusioni. Le monete digitali sono una forma contemporanea della moneta privata, cosa che è stata, a lungo tempo, assente nell'economia, nella vita economica del XX secolo. Grazie all'applicazione della blockchain, della tecnologia blockchain, che può essere utilizzata in altri campi finanziari e industriali per altri propositi, le reti di transazioni delle monete digitali sono relativamente salve, trasparenti e veloci. A differenza dei predecessori cartacei del XVIII e XIX secolo. Le monete digitali sono usate globalmente senza problemi di confini nazionali, al di là dei confini nazionali. Attenzione, questo è un summary fatto dal Parlamento europeo, un documento ufficiale, un report ufficiale. Tutti quegli economisti che sono propensi a, insomma, sminuire quelle e a giustificare con poca importanza, la poca importanza delle monete digitali, considerandoli quindi invenzioni senza senso, oppure l'incarnazione di una nuova utopia monetaria o una sorta di mania, come appunto è stata definita da Robert Shiller, o addirittura una frode, o appunto anche uno strumento conveniente per una money laundering, quindi per purire il denaro sporco, si sbagliano, quindi are mistaken, si sbagliano. Le monete digitali rispondono a una reale domanda di mercato e, con molta probabilità, voglio sottolineare questa frase qui, rimarranno con noi per del tempo, per molto tempo. Will remain with us for a while. Rimarranno con noi a lungo. Questo è un report e vi consiglio poi di leggere il resto, fatto direttamente dal Parlamento europeo, su quelle che sono le monete digitali. Adesso, se ancora, e questa quindi dimostra, innanzitutto, quindi che non stiamo parlando di tulipani, ma stiamo parlando di un qualcosa di concreto e non stiamo parlando, non è che lo parlo io sul mio canale YouTube, quando sembra che parlo di blockchain, tecnologia blockchain, e quando dico queste cose cambieranno il mondo, allora, è arrivato il sognatore. Quando arrivano questi documenti qui, poi, almeno, c'è un pochino più di cognizione di causa, si comincia a vedere che c'è qualcuno che la pensa un pochino allo stesso modo, e qualcuno che conta. E poi, secondo luogo, si vede quella che è la posizione presa dall'Europa, che è molto crypto friendly, e l'abbiamo sempre vista questa cosa qui, l'Europa si sta adoperando per vedere come utilizzare questa nuova tecnologia per un progresso, e di sicuro non ha intenzione, almeno in questo momento storico, di tarpare le aree a un qualcosa che sa che è un qualcosa che può rivoluzionare e cambiare il mondo nel positivo. Quindi non si pone in un modo negativo. Io leggo spesso il discorso cosa potrebbe succedere se governi mondiali decidessero di bannare, di rendere illegali un certo tipo di cose. Allora, si può rendere illegale un certo tipo di servizio, di terze parti, di sicuro non si può rendere illegale però una certa tecnologia. Una tecnologia che porta dei benefici, non può, ossia, volendo si può anche, ma non ha neanche senso. E poi parliamo di un qualcosa che non ha una regione, non ha uno stato di appartenenza, ma è un qualcosa che viene utilizzato a livello globale. Ma qui mi sto allargando perché poi parlerei tantissimo su questo discorso qui. Voglio solo farvi vedere questo documento qui, un documento ufficiale che vi lascio in descrizione, a sintesi di quella che è stata comunque una settimana abbastanza positiva. Penso che potete essere d'accordo con me se andiamo a vedere solo quest'ultima settimana. In ogni caso, visti certi termini, certe cose che escono fuori, capite anche perché io vi dico sempre guardate a lungo raggio e state sereni a lungo termine in questo campo qui. Va bene, vi ringrazio per la sintesi sentimanale ci vediamo sempre a lunedì. Spero di uscire lunedì prossimo perché sarò in viaggio, ma in ogni caso cercherò di fare un aggiornamento. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.